Ciao, io sono Chiara. Oggi andremo a fare delle trecce un po' insolite. Andiamo a creare una riga laterale e dall'orecchio al centro qui della testa andiamo a creare un codino. Lo pettiniamo. Ancora un altro codino al centro della testa e ancora un altro. Facilissimo. Abbiamo una lacca idratante. Bene, iniziamo con la ciocca centrale. Prendiamo il codino. A 7-8 centimetri andremo a rimettere un altro elastico. Apriamo il codino che abbiamo creato prima e andiamo a rovesciargli la ciocca. 7-8 centimetri un altro elastico. Apriamo di nuovo il codino e andiamo a mettergli la ciocca. Facciamo lo stesso lavoro fino alla fine della ciocca. e andiamo con quella laterale. Le andiamo ad unire. Togliamo gli elastici che abbiamo messo fondo perché non ci servono più. E mettiamo uno solo. Ora questi sciolti li andremo ad unire con la treccia che abbiamo unito. Quindi la parte sotto la dividiamo in due. Una e due. Questa è la terza ciocca. Quindi andremo a creare una treccia. Andiamo a bloccare questi asole. e andiamo a rifinire con un bel cerchietto.